Sono suora Alessandra, una suora salesiana, figlia di Maria Ossidiatrice, vivo a Roma, insegno economia, sono un'economista, qualcuno ritiene che sia un po' strano essere suora ed economista, ma io penso che oggi sia importante mettere insieme queste due realtà. Credo che sia questo il motivo per cui sono stata invitata a Sidono, non so, ho ricevuto questo invito con molta sorpresa. E cosa mi aspetto da questo sinodo? Innanzitutto il tema è bellissimo, mi aspetto che la Chiesa ne esca più giovane, che sappia interrogarsi, rispondere con franchezza e che sappia intraprendere strade nuove per accompagnare i giovani, non quelli che abbiamo nel recinto, ma i 99 che dobbiamo andare a cercare. Quindi ho tanta speranza per questo sinodo con i giovani, sui giovani, per i giovani, dei giovani. Grazie. Grazie. Grazie.